Era merito mio Ma come settimana scorsa sei vestita? Ma li vuoi lavare i vestiti? Anche tu Ma io ho solo maglie rosse e verdi Buon appetito amici Ciao amici Però è il mio video È passata una settimana dal video Che continua a essere comunque il mio il video Ciao a tutti cettolini E benvenuti in un nuovo fantastico video Video È passata una settimana Di The Sims Potrebbe essere qualsiasi cosa È passata una settimana dall'altro giorno Aspetta dall'altro video magari Dall'altro video è passata una settimana Vagamente mi ricordo cosa abbiamo fatto Io no mi ricordi un po' per favore Mi pare avessimo creato Sasha E tu fallimentalmente Ci stavi già provando Ah ok Sì mi ricordo questa cosa strana Sì è che Sai cosa facciamo oggi? Ma noi siamo amici? No Eh Andiamo con lo tracking Esatto Quello che volevo dirti invece no Oggi dobbiamo festeggiare l'arrivo di Sasha E poi Mimì e Coco Cosa stai facendo adesso? Perché? Perché quando tu non ti dai qualcosa Ma mia mamma diceva Mimì Coco Cacca Senno Eh? Mia mamma chiamava Mimì Coco Cacca Senno Capisco Non è quello che si è crescita così Non aveva mai capito chi è Cacca Senno Perché Mimì e Coco Sì? Io faccio finta di niente Mi chissò su Il vuoto per dire Eravamo arrivati a Tu Che facevi Cosa succede se premo qui? Ti segui la telecamera Ah Tranquillo giochi da quando? Da sempre Ma non ce l'ho io questa cosa Tassa destro Che culo sparata a casa Non lo sapevo Anch'io Ah ecco Io e Sasha stiamo già Oh no 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 Giulio chi se ne frega Pietro quell'uncino Dio mio Che vomito Che schifo Ma adesso cos'è la ciccia? Eh penso di sì Che gli è venuto per il parto Sì per il parto diciamo Sì E poi c'è il mio cagnolino piccolo Che non se lo calcola mai nessuno Vuole andare a correre Allora Partiamo subito Prima di iniziare Andre alza il sedere E porta fuori il mio cane Allora Altre scelte Protezione animali Vai a fare una passeggiata Vai a fare jogging Ecco così due cose in uno Bravo Mi stai cacciando Via Giulio Via i pop corn E subito vai a prendere il cane Andiamo a fare una Beh Perché la tua serie di sim Se sto giocando io? Non l'hai sempre fatto Ah ok Eeeh Guarda la Ah tocca com'è felice Guarda tutto questo Non è com'è Stiamo andando a fare i jogging noi? Sì Penso di sì Mi si è staccato il guinzaglio Vabbè Non è che può durare tanto Allora Qualcuno ha fatto la lavastoviglie Non io di sicuro No Vediamo tutto questo La nostra pietra Ma è sempre in bagno Ma si rileva dal bagno Ma che figo Adesso ho scoperto questa cosa È comodissima Eh già Era così Ma dai Non lo sapevi? No È proprio la più Neanche tu lo sapevi Sì te l'ho detto Non ci credo che Adesso va sul tapirulano Ma cosa va a fare? Da grasso No è impossibile E tu perché mangi i pop corn? Perché i pop corn sono il mio piatto preferito Cremi Ce l'ha con me mi sa Non ci credo Ci vuoi provare Con il mio Guarda come sei vestito La battaglia Fermo Fermo Adesso vado giù La insulto Ma non serve Ma che problemi ha? Se sei una stalker Lasci stare No Parla con Pietro Ecco bravo Allenati con Pietro Ma è incinto Voglio vedere come si fa Allenarmi con Pietro E tu questo da sola Va per Amore Potresti avere dei problemucci Ah ok Ma io faccio la palestra Questa qua La ginnastica Ma è bello che sono andata giù Con Chi è Vladarius? Chiamalo È un gran maestro Di cosa? In vita? In vita nell'otto attuale Sì Ma no è un amico Ma perché io ho messo i pop corn per terra? Dietro a Sasha soprattutto Sì E io farei che Pietro Pietro parla con Sasha Ma perché continua a fare così? Discutiamo delle te Condividi la grande notizia Che è incinto Incinta Cioè quello Vai condividi questa grande notizia Ma quando arriva Vladimarius Vladimiro Luxurino Ti facciamo assaggiare a Pietro No dai È arrivato Zack Cioè mi ha mandato a fare jogging Sei a disagio? Puzzo Hai calpestato la cacca Che cacchio Hai calpestato la cacca e puzzi Vabbè mi dispiace Voglio vedere adesso Quando arriva il conte Dracula Sono il conte Dracula Minghia Guarda il mio cagnolino Che fedele Che fedele Anche io sono a disagio Perché Anche tu puzzi Puzzo E sono molto stanca Quindi direi Che è il momento Di andare a fare Una bella saunetta Sai che hai lasciato Campo libero a Pietro Sì sì ma non ho tanto incinta Vado a farmi una bella rilassata Perché sono molto stanca E tanto è tanto incinta Nel senso che sta quasi partorendo Non può mica succedere Ma è appena rimasto incinta Come fai già a partorendo? Eh ma c'è un conte già grosso grosso Era già grosso Di solo inizio Io direi che dobbiamo festeggiare La grande notizia Quindi potremmo pianificare un evento Pianifica un evento sociale Grande festa Grande festa Corte di Francia Lei Lei di Oscar No Lei di Oscar Oh mio amore ha già dei problemi No Schiacciami pure il cane eh Cioè ragazzi sono senza parole Questo mi schiaccia il cane L'ha svegliato pure E per forza l'ha schiacciato Vabbè Però hai visto Il sapone tattico Guarda come tu hai messo il sapone tattico Ma veramente Sì Ah potremmo fare Una festa di ballo Momente di gioco per il bebe Ma scusa Non facciamo una festa di matrimonio Eh ma tu sei già sposato Non puoi farla Vedi che non puoi farla Invece queste sì Festa con cena Beh io direi Una rostitura di salsicciotti Ma abbiamo invitato Vladimiro in casa Facciamo una festa spettrale No Dai Una festa spettrale Ok Allora clicca per invitare Padrone di casa Invitiamoli tutti Questo è il padrone di casa Siamo tutti padrone di casa Tranne Pietro Leva Pietro No Uffa Mixologo Due mixologi Due Non si può Massimo Ah volevo due Ehm Ho invitato Dobbiamo selezionare il luogo Non mi fa fare Non posso andare avanti Per continuare Invita tutti i sim Ricchiesti Perché stai facendo casino Tu saprà Sim richiesti due Limite massimo 15 Ma io non posso Ah perché è il padrone di casa Ok padrone di casa Ok E allora non ti invito Perfetto Così possiamo andare avanti Mixologi Ok uno E catering A casa la facciamo Ho messo padrone di casa Eh per forza Per forza si Allora Veloci Sabri Intaglia zucchine Diavolo Dove ne mettiamo Troviamo il zucchine Ma chi è questo Ma da dove è uscito Mi sa che sei tu Andrea Ah siamo in maschera Questo sei tu Questo si vede So figo Poi io Tu sei ancora in sauna stordita Ma ti ho invitato Ok Questo è Giulio È Giulio Non me lo ricordavo Ma chi è È Sasha Ma non li abbiamo scelti noi questi No È una cosa Sì l'hanno scelti loro in automatico Allora Dobbiamo tagliare le zucchine Quindi direi che lo facciamo fare a Giulio Sì Dove diavolo le trovo le zucchine Taglia le zucchine Allora proviamoci Apri Apri Non c'è C'è la merda Ma perché c'è la merda Dove si possono comprare delle zucchine Perché c'è la merda nel frigo Non lo so Non lo so Pranzi In forno Cucina Altre scelte Attiva Laura emotiva Ma no Allora Allora cucina Le dobbiamo comprare E dove si comprano Cellulare Cellulare Non c'è Andre Chiamano servizio Ma non c'è il cibo a domicilio No Foodora Non c'è qua Foodora Allora intanto facciamo una cosa intelligente Balla Intanto balla Mettiamo ogni attimino la radio che facciamo prima Sì Ma ci sono le radio Sabri Girati Sì lo so però è più bello mettigliola qua No non metto in altre Girati Sì poi gliela cambiamo Sono già due in quella stanza Non mi interessa Voglio mettergli questo Basta che schifo Quella più brutta del mondo hai messo Sì Allora 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 Accendi Nudisco Musica L'ambiente Festa invernale Sì Sì Perfetto Dobbiamo ballare assolutamente Con quante persone devo ballare Fai ballare Pietro Balla Sì ma se selezioni me Non fai ballare Pietro Ah vuoi far ballare anche Pietro Ovvio Ok Balla Guarda che tu e Pietro siete uguali No dai Mi sono vestita Sei pure sporcare Ma perché poi io sono l'ercia Non ho capito scusa Molto a disagio E beh Vai a lavarti Sabri Schifo Vai a farti un bagno Guarda che bello Eh sta ballando Forse dobbiamo far ballare anche Giulio No l'abbiamo già fatto Balla guarda Leggi c'è scritto Ah ok L'abbiamo fatto Perfetto Chiedi dei dolcetti Discuti dei costumi Di due persone Cambia costume da festa Esattiti a cantare Fai che i sim chiacchierano Nello stesso momento Io devo andare in bagno Azioni Allora Chi sei Questo sei tu Discuti del costume Perfetto Ma stavo andando in bagno Poverino Non mi interessa Mi sta pisciando adosso Ma niente Discuti del costume La tua priorità di interesse Deve discutere del costume Entusiasmati Ok stanno chiacchierando Ottimo 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 Discuti dei costumi Eh non lo trovo Io lo so dov'è Dov'è Altre scelte Amicizia Eccolo là Dove Richiedi una zucca intagliata Discuti del costume Fermi Veramente Ce l'ha scritto Richiedi una zucca intagliata Le zucchine È arrivata quella del catering Chiedilo a lei Sabri chiede a lei Sì No Presentazione La devi conoscere Poi glielo chiedi No no Vediamo se era qua Altre scelte Ottimo Andre Per la prima volta Vedi Perché non si può appare Vaci sopra Richiedi una zucca intagliata Forse può fare un'altra persona C'è scritto Basta leggere Ah ok Non c'è una postazione In tagliere Mettiamola subito Mettiamo in pausa Così non perdiamo tempo Sì Aspetta salvo Salva Riannulla sì Sì Ok Ok Una posizione da intaglio Un tagliere Cosa diavolo è? Un tagliere Un bancone Eh forse perché è elevato Il posto dove potevano tagliare Per messerci quella Musica di merda Allora possiamo cancellarla ora Basta Ok Tanto lo abbiamo fatto Riproviamoci Adesso riproviamoci Sascha Chiede Chiamo intanto play Allora altre scelte Amichevole No No Ma questa è la zucca A noi serve la zucchina Vabbè Zucca Chi ha detto zucchina? Non ero convinta con le zucchine Allora Ma perché la catering si sta facendo i carri Non lo so Andre Una zucca intagliata Cos'è che chiedeva? I banconi chiedeva tipo Scrivi in taglio Nella ricerca Intaglio Ecco qua C'è Eccola quella Questa? Si Ma cos'è sta cosa? In mezzo Ma chi se ne frega? Ma quanto sta bene lì Grazie Sabri Ok Si entra in bagno Si 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 entra E allora velocemente Fallo tu Con Sabrina Altre scelte Amichevole Richiede una zucca intagliata Dovemmo farne due Ok Ok La richiesta Si Ottimo E adesso Sabri Chiede sempre a lui Altre scelte Amichevole Richiede una zucca intagliata Muoviti vai a farne due Stai perdendo il tempo L'unico che non dovrebbe fare niente Allora intanto Ci sono Andre Andre va a farla lui In taglia la zucca Eeeh Classica Sghemba o gatto Ovviamente a gatto Bello Bellissima Esegui interazioni sociali maliziosi Allora Sabri Eh Perché Sabri quando c'è da fare malizione Vada a Sasha E fa una roba Aiuto Brava Chiace Sabri Vada a Sasha Chiace tasti a caso E fa una roba maliziosa Quindi altre scelte Malizia Malizia Cosa è quella macchia Spaventa Ok Visto che sono ispirata Qualcuno sta intagliando le zucche Io sto intagliando Ma è difficilissimo Ma quanto sono bravo Muoviti Veloce Ok Sta scadendo il tempo Sabri E poi Dobbiamo farne due Quindi Ok Dobbiamo farne tre Tre addirittura Sì Giulio chiede a lui Altre scelte Fichi fichi nella sala Malizia Malizia E invita ad una finta festa Così Ok Una fatta Dopodiché Eccolo Adesso è Sasha Che va da Pietro Altre scelte Malizia Cos'è quella macchia Vieni lì dei dolcetti della festa Andre Ma quanto ci mette in tagliare una zucca La sto facendo bene Ho capito Ma dopo non facciamo in tempo E poi chiedi dei dolcetti da festa L'avevo visto L'avevo in amicizia Tre di tre Sì Sì Un dolcetto da festa Quanto devo chiedere Due Ok E poi lo facciamo Sì qua non siamo diabetici Vai No infatti E tu lo chiedi a lui Altre scelte amichevole Chiedi un dolcetto da festa Andre Le tue zucche Scusa mia Scusa Seleziona me Vediamo quanto manca L'abbiamo finita Eccola Finita Ok In taglione un'altra Quella lì Metti nell'inventario Così te ne faccio fare un'altra Ma mettiamola da qualche parte D'esposizione dopo Sì Non lo so ma devi fare un'altra Sta per finire il tempo Ok adesso Intaglia la zucca Sghemba Sghemba Verde Che ottima E poi manca Ancora Ssss Andre E' tutto nelle tue mani Osserva la zucca intagliata Mettila Dov'è che l'hai messa Nell'inventario l'hai messa Sì Riprendila dall'inventario Mettila da qualche parte Sul tavolo Ma non faglielo fare a lui Che è occupato Faglielo fare a quello Che non fa niente No Ce l'ha nel suo inventario Nel suo inventario Sei la peggiore Buttala per terra Aspetta Facciamo finire Non sai cosa fare Facciamo finire Sì Dovrei fare così Ok Ma Ah si può Sì Però Eccola lei Ora osservala Carina Allora aspetta Sabri ti vuole accenderla Accendi la candela Oh E lei si sta cagando addosso Sì Io mi cago addosso Anche qua la diarrea Tu muoviti Andre manca poco Osserva Osserva le zucche intagliate Preto Sabri Ssh Tasha osservala Ok Bravo Ora si mette di davanti Così a guardare Sì Osservatela bene Andre Andre devi muoverti È un lavoro di precisione Andre devi muoverti Manchi solo tu Sarebbe la prima missione Che io riesco a fare tutta Io riesco a fare tutta Tu non stai facendo niente Sto facendo io È il mio canale e il mio video Quindi è il mio Ho capito ma guarda che roba Però mi stavo asservando Sì 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 Andre ti prego è la prima volta che riesco a fare una missione È un attimo È un'arte Dai Aia Manca poco Sabla Tic Tac Tac Tic Tic tac Non ce la facciamo Oh mio Dio Oh mio Dio è la prima volta Quanto sono forte Festa spettorale È la prima volta Sè Doppio Sè E Ah e quando finisci mi dà la ricompensa Wow Andre sei ispirato Eh ho lavorato solo io Obiettivamente me la sono meritata Certo Chi ha fatto tutti questi dolci Come raviglia Tu sei andato a dormire Eh sì sono diabetico C'è anche la bocca Corina La torta Frankenstein La torta zombie Bellissima L'ha fatta Ugo È il tizio È lui Cambio di verdure così Eh si fanno con i coltelli Visto Opla Ma io vorrei farti vedere il mixologo Che sta giocando a L'ha spento Perché ha già visto Guarda Wow Una baldoria da urlo Una sagra da brivido Dopo una serata di malizia e delizia Gli oswi sono andati via farfugliando di gioia E tutti puzzano L'unità familiare è stata premiata Con un costume da super lama Che sarà perfetto per la prossima festa Da super lama È la prima volta che prendo un premio Dove sti la super lama tu? Dove sti la super lama? Sì È dove lo trovo? Tra le mie cosi? Vai nel guadaroba Vediamo sfoggia l'abito Abiti Cambia abito Non c'è Non c'è No Magari è nell'inventario del gruppo Vabbè Poi vedremo In tutto questo Adesso La festa è finita Cioè Ma come? Ce lo sforna il catering? Sì ce lo sforna il catering Ma prima che sforni Pietro Io direi che è il momento di salvare Tu mi devi dire però Quanto tempo passa Sì Scusa Quanto tempo passa Da quando sforna il bambino? Non lo so Non me lo ricordo Me lo sono dimenticato Perché dobbiamo ancora preparargli una stanza Un qualcosa Hai ragione Nel prossimo episodio si prepara la stanza E si fa quello che dite voi Ma specialmente Scrivete dove fare la stanza del pupo Facciamo così Voi incominciate a pensare anche per un futuro Perché questo bambino Prima pargolo starà lì magari Dovremmo fargli una stanzetta E poi avrà bisogno di una stanza Esatto Quindi scrivetelo nei commenti La Sabri vi manda un bacio Andre vi manda un bacio Andrì vi manda un bacio Vabbè lui come sempre In tutto questo il tizio Si fa i cavoli suoi È un amico di catering E ci vediamo domani No domani Un altro giorno Esatto Con il prossimo video Per il mio aspettiamo Ciao amori Cos'è? Vai il vino principale Uuuuuh